Vittorio Gabbanini è il primo cittadino della città di Saminatum, provincia di Pisa. Un distretto molto importante, quello di Ponte Egola. Sei anche te qui a linea pelle per trovare tutti gli associati. Sì, è una visita che non è solo di facciata, ma una visita di consistenza, perché veniamo a misurare un polso un po' ai nostri massimi imprenditori, che è il settore conciario, è quello trainante di tutta la Toscana, ma direi anche dell'Italia, perché è l'unico settore che sta innalzando i pil in questo momento. Ma io credo, siamo venuti apposta l'ultimo giorno, per non creare problemi ai tanti espositori del nostro territorio. E quindi abbiamo riscontrato, insomma, momenti positivi, insomma, c'è stata affluenza, c'è stata gente, ci sono interessi. La location di Milano, secondo me, è una location indovinata, perché favorisce ovviamente le persone che arrivano dall'estero. Quindi è un buon momento. Io credo che non bisogna mai abbassare la guardia, bisogna sempre impegnarsi ancora di più. Io credo che i nostri imprenditori sono unici al mondo, fanno dei prodotti che sono davvero d'eccellenza. Non lo dico per piageria, lo dico perché è la verità. E quindi i frutti arriveranno. Insomma, c'è un gran movimento e noi speriamo che questo si trasformi anche in tanti ordini per le nostre aziende. Sindaco Gabbarini, molto importante la vicinanza delle istituzioni, ma soprattutto anche la questione ambientale. Ricordiamo anche che Pontegola rappresenta un'eccellenza per quanto riguarda il cuoio proprio a livello mondiale. Sì, direi di sì, perché è il massimo produttore nel mondo di cuoio. Credo che si aggiri intorno al 90% del cuoio consumato prodotto nel mondo viene da Pontegola. E poi c'è un'attenzione particolare anche all'ambiente. Vorrei ricordare che se Samminiato è famoso per le grandi firme, per il cuoio, la pelle, la pelle conciata al vegetale, ma è altrettanto famoso per un'altra cosa, per il tartufo bianco. E il tartufo bianco lo si trova solamente dove l'ambiente è incontaminato. Quindi mettere insieme questi due fattori, le concerie, un'industria, mettere insieme l'ambiente vuol dire che c'è stata una politica che ha saputo fare. In questo caso siamo molto contenti.